Ciao a tutti, vi volevo semplicemente fare intanto un augurio di buona domenica, visto che siamo tutti giusi in casa e ci possiamo solo vedere e sentire con i mezzi che ci fornisce di internet, però vi volevo invitare, lo farò spesso in questi giorni, queste trasmissioni, questi video dove vi dico alcune cosette, vi volevo invitare semplicemente a questa volta a iscrivervi in un gruppo che ho creato su Facebook, che l'ho chiamato, vogliamo tornare in pizzeria la voglia di pizza, dobbiamo lottare tutti insieme per vincere e quindi ritornare a riversarci nelle pizzerie a mangiare queste benedette pizze che ci hanno tanto accompagnato nei tempi scorsi e che oggi purtroppo non possiamo più gustare e soprattutto aggregarci tutti insieme per gustare tutti insieme una bella pizza. Aspettando tempi migliori io credo questo gruppo in modo che chi si vuole iscrivere può venire a mettere, come vedete qua, le proprie fotografie delle pizze che gli sono piaciute, che ha gustato nei tempi scorsi, in modo da creare anche una memoria vicina che spero che possa essere un'anticipazione di quello che faremo poi per fare poi una grande festa alla fine quando riapriremo le pizzerie e torneremo a gustarci queste delizie, queste pizze che ne sento solo a guardarle mi viene la collina e mi pare di sentire l'odore, quindi iscrivetevi al gruppo, io vi metterò dopo il filmato anche il link per poter entrare e potervi iscrivere e postate le vostre foto dicendo pure dove avete gustato la pizza che è oggetto della condivisione. Intanto vi saluto e con un invito stiamo a casa, cerchiamo di creare cose come queste che servono per rendere meno pesante la nostra, chiamiamola con il nome giusto, prigionia, però rimaniamo a casa che serve per la salute di tutti, sia nostra che dei nostri cari e di tutti quelli che ci stanno vicini e anche lontani. Grazie e a presto.